Ciao a tutti! Allora, eccoci anche oggi a raccontare ciò che è avvenuto in casa da Limberti e non solo. Allora, ieri Davide, come al solito, ha aperto la sua live serale intitolata Buonasera, fantasia portami via, come si suol dire, e comunque in questa live è accaduto un po' di tutto. Innanzitutto c'era sempre, come al solito, il moderatore fantasma, che ha dato, insomma, abbastanza fastidio a Davide e ai suoi moderatori, tant'è che hanno deciso finalmente, direi, perché insomma dicono sempre che faranno la live in un altro canale, poi la fanno sempre, insomma, sul canale Davide e Chiara Channel, anche appunto se c'è il moderatore fantasma. Comunque pare abbiano deciso di spostarsi e comunque, a parte il moderatore fantasma, ci sono state degli attimi un po' particolari. Innanzitutto Davide ha dato contro la damanera, perché? Io penso sia scaturito tutto da un post che ha fatto appunto la damanera in cui si legge. I contenuti migliorati, vlog nuovi, eccetera, ma trincia cosa mi combini e poi mi posti un video riciclato, ma mi faccia il piacere. Questo perché? Perché nel nuovo canale, appunto, della coppia Super VIP di Milano è stato caricato un video abbastanza vecchiotto dal titolo Trailer del nuovo canale Davide e Chiara d'Alessandro. Comunque, si stava parlando di video che Davide doveva ricaricare sul nuovo canale per cercare di aumentare gli iscritti e per fare, insomma, anche le live lì e dice, appunto, parlando di questi video che avrebbe dovuto caricare, non so se vi ricordate che Dio ci ha donato una scatola cranica con dentro la materia grigia. A proposito di questo video, volevo ricordare a una persona, persona non è, personcina non è, è una cosa che si butta in discarica. Luciano allora se ne esce e dice, a una così cosa vuoi ricordare? E lui, lo so, hai ragione anche te, comunque ricordiamo a questa persona che è utile solo in discarica, che mia moglie non è che ha messo un video vecchio sul nostro canale, ha commesso un reato, cara pirlona o caro pirlone, perché so chi sei, non voglio fare nomi, ma tu sei proprio da discarica, sei proprio ignorante, perché almeno così ti rimetto a cucci, perché con te basta che ti soffio in faccia e ti metto lì nell'angolino. Non faccio nomi perché non ti pubblicizzo, perché già fai quello che fai. Comunque ti ricordo che una persona sul suo canale nuovo, se vuole mettere il proprio video, lo può fare anche mille volte, ma mi sa che tu sei limitata, ma molto. E qui poi comincia a sproloquiare, perché? Perché dice, mi sa che tu ti sei fermata alla seconda d'asilo, poi hanno rinunciato, hanno detto, senti vai direttamente alle medie, salta le elementari, prova ad andare alle medie, ti hanno fatto fare l'esame di terza media, e hanno detto, questo è un caso disperato, quindi ciccia o ciccio, stiamo sul vago, vada via al cul. Allora, c'è questo fatto della terza media che salta dalla seconda elementari, c'è veramente un delirio. Comunque, a un certo punto interviene anche Chiara, dicendo, voglio indovinare dalla descrizione che hai fatto Soriano? E lui le dice che merita il premio Nobel. Comunque, non ha tardato a rispondere la dama nera, anzi, ha risposto praticamente subito. Inutile dire che gliene ha dette di ogni colore, ha detto che appunto, per quanto riguarda la discarica, deve un attimino guardarsi in famiglia, ecco, non l'ha detto con questi termini, però questo era il senso. Ha parlato anche di Luciana, dicendo che sembra una persona abbastanza avvinazzata, che alla sua età si mette a parlare di persone, insomma, con il petto nudo e quant'altro, perché? Perché Luciana le avevano detto di andare a guardare i cantieri, perché alla sua età, insomma, si guardano i cantieri e non si sta in live a fare determinate cose. E lei ha detto, nella live di Davide, di ieri sera, che le è piaciuto questo suggerimento che le hanno dato, perché ha fatto capire che i muratori erano bellocci, che insomma, poi si sono cambiati, quindi evidentemente si è visto il torace, insomma, e quindi dama la ripresa su questo punto. Per quanto riguarda il fatto che Davide le ha detto, se ti soffio, tu, insomma, ti metti nell'angolino, lei gli ricorda che quando sono andati a Viserbella e si sono incontrati, quello che si è messo a cuccia, anche se non era accaduto nulla di che, è stato proprio Davide, che pare si fosse messo in un angolo, mentre c'era questo confronto tra Calogero, Vada Maniera, Chiara e Davide, che Davide, insomma, si era messo in un angolino, braccia concerte, e che diceva alla moglie, dai, andiamo, andiamo in hotel, praticamente, mentre Chiara aveva chiamato il proprietario dell'hotel, appunto, per contrastare, diciamo, per farsi dare manforte in questa situazione. E lascia intendere che davanti allo schermo, o ancora meglio, dietro lo schermo, lui fa il gradasso, ma poi, alla fine, quando si trovano faccia a faccia, tutto questo coraggio, tutta questa boria, tutta questa voglia di rimettere a cuccia, poi non c'è più. Sempre in questa live, a un certo punto, si parlava del fatto che Davide ogni tanto riprende fiamma, ma che la riprende e poi la fa anche del lecchinaggio, quindi, come si vuol dire, non schiazza una carezza. Questa cosa l'ha detta Luciana a Davide, e Davide le risponde in questa maniera, io non lecco, se lecco, lecco solo mia moglie, e vi dico anche cosa, se volete. E Luciana, evita, per favore. E lui, l'ho detto? Posso anche dire, ti lecco il pollice della mano. Comunque, dopo questa affermazione, insomma, si capiscono tante cose, quindi, se vi capiterà di vedere Davide con i capelli un po' così, diciamo, che sembrano un po' bagnati, che sembrano un po' leccati, insomma, che sembrano un po' ingrostati, adesso sappiamo il perché. Comunque, andiamo avanti. È accaduta una cosa in questa live. Cosa? Allora, lui si alza sempre per la classica sigaretta, si era anche alzato per la cioccolata, comunque, si alza per la sigaretta, va fuori dal balcone, insomma, si sente Luciana, che quando lui si alza, insomma, parla. E, però, se vi mettete le cuffie, riuscirete a carpire un discorso fra Chiara e Davide. Cosa è accaduto? Io, appunto, mi sono dovuta mettere le cuffie, perché altrimenti non sarei riuscita a distinguere quello che si dicevano, però si sente ad un tratto che Davide dice no, la terza spesa, ti giuro, io non ti porto. Vai in taxi. E lei dice, va bene, tieni. E lui gli fa, ma ancora questo gesto? Guarda che la butto via, non mi fa incazzare. E, praticamente, a fine live, si sente Chiara che dice Allora, parliamo di quello che è successo prima che ci facciano live, insomma, e quant'altro. E' meglio che lo diciamo noi, praticamente, questo era il senso. Cosa è accaduto? È accaduto che Chiara, che aveva già fatto due spese, voleva andare a fare la terza spesa, perché doveva comprare non so cosa. Fatto sta che Davide non voleva andarci. Allora lei gli ha detto di prendere il taxi. E allora lei cosa ha fatto? Si è sfilata l'anello matrimoniale, la fede, e, praticamente, ha fatto il gesto di dargliela. Evidentemente, non è la prima volta che questo accade, che lei fa questo gesto, perché lui, appunto, le dice, ma ancora questo gesto? Guarda che te la butto via. E lei dice che ha detto questo, un po' perché comunque si era capito che qualcosa non andava, perché la sua cerina le aveva anche telefonato, perché aveva sentito questa conversazione, come ha fatto, cioè, c'ha dei padiglioni auricolari, complimenti, Daniela, perché, insomma, comunque la sua cerina allarmata ha telefonato a Chiara e quindi lei si è sentita di spiegare questa cosa. Nel frattempo, in chat, la sua cerina dà, come sempre, ragione a Chiara e dice a Davide di svegliarsi. Allora, cosa si è vinto da tutto ciò? Lei dice che Chiara dice che si è vinto che suo marito non è una marionetta. E questo può essere vero, perché gli ha detto di no, lui non vuole andare a fare la terza spesa, quindi, diciamo, si è imposto. Però si evince anche che Chiara è una manipolatrice. Perché? Perché il fatto di togliersi la fede e fare il gesto di restituirla, cioè, significa, se non mi porti, questo è il pegno che tu dovrai pagare. Quindi è anche questo una manipolazione, praticamente, perché certamente lui, a questo punto, la porterà a fare la spesa. Quindi, sì, lui si è imposto, ma alla fine chi l'ha vinta, insomma, è sempre lei. O almeno così possiamo supporre, visto che, insomma, a quanto pare, questo gesto l'ha fatto più volte e, insomma, evidentemente, la soluzione è sempre stata quella che l'ha vinta lei. Cosa dire? Dire che una persona che si toglie l'anello, la fede matrimoniale, soltanto perché il suo marito non se la sente di andare a fare un'ulteriore spesa, è veramente una bambinata e la dice lunga sul fatto che loro hanno un matrimonio felice. Perché, cioè, un matrimonio felice, secondo me, non è che, oddio, non mi porti a fare la spesa, rieccoti la fede. Cioè, allora, cosa ti serve? Soltanto per scorrazzarti in giro? Per portarti a fare la spesa? Cioè, fammelo capire, insomma. E un'altra cosa che io ho notato è che questa signora Daniela, cioè la madre di Davide, dà sempre e solo ragione a Chiara. Io vorrei capire il perché, nel senso che quando ha ragione una persona è giusto darle ragione, ma quando la persona ha torto, e in questo caso Chiara aveva torto, non si discute, perché, insomma, tu la spesa l'hai già fatta due volte, e cioè, posso anche scocciarmi di dover fare un'altra spesa o no? E il fatto che tu mi restituisci l'anello, che cosa dice di te? A questo punto io mi aspettavo che la mamma di Davide dicesse a Chiara, guarda, non fare la bambina, perché non è il caso, insomma. E invece no, lei, come al solito, al solito dà ragione a Chiara. E qui, molte volte è stato detto che la signora Daniela, in qualche modo, ha paura che magari questo matrimonio venga meno, perché magari si deve ritrovare un'altra volta Davide a casa, e io sinceramente non davo peso a questa opinione, perché sinceramente io, finché non ho la prova di determinate cose, preferisco anche non parlarne. Però, per come si comporta la signora Daniela, o è amore assoluto verso Chiara, cioè è accecata da questo amore per sua nuora, o evidentemente, insomma, un po' di paura c'è, e quindi preferisce darle sempre ragione. E adesso passiamo alla live di Faith. Perché? Perché ha fatto sentire un audio di Chiara. Allora, cos'è accaduto? È accaduto che la signora Luciana ha un corrispondente che si chiama Pietro. Questo Pietro era già amico loro, già parlava con la signora Luciana, e la signora Luciana si sfogava con lui per quanto riguarda la figlia e il genero. E questo Pietro, che appunto era amico della signora Luciana, quando la signora Luciana si sfogava, le dava corda, nel senso, non che parlasse male dei coniugi, ma comunque le dava ragione, insomma, per determinate situazioni, le dava ragione. Dobbiamo anche pensare che quando ognuno di noi racconta la sua verità è normale che la ragione sembra ce l'abbia lui, quindi questo Pietro, ascoltando soltanto la signora Luciana, le dava comunque ragione. Quando è accaduto il fatto di Cactus e degli audio, Chiara ha spulciato il cellulare della signora Luciana, della Luciana, insomma, e ha visto che oltre tutti i messaggi di Cactus c'erano anche questi di Pietro, dove, a detta di Chiara, questo Pietro insultava lei e Davide. Comunque, c'era stato anche un episodio con questo Pietro che in chat aveva scherzato con un accessorio per fumare, fra virgolette, e a questo punto l'aveva bloccato. Poi l'aveva risbloccato dicendo che comunque lei non si era mai fidata di lui, di questo Pietro, e lo aveva ribloccato. Egli ha detto anche, ti dico una cosa, l'aereo, perché se io dico questa cosa, se racconto questa cosa, tu puoi andare a nasconderti. Allora, che cosa è successo del fatto dell'aereo che tutti chissà, insomma, che pensavamo fosse accaduto? È accaduto che Pietro era andato a Ibiza a passare una vacanza, è tornato a Milano e si è incontrato con i coniugi da Limberti e poco dopo lui si è ammalato di Covid. allora Chiara che cosa ha sostenuto? Ha sostenuto che lui era già ammalato di Covid, che aveva preso l'aereo, che poi li aveva incontrati e che aveva attaccato il Covid anche a loro. Praticamente che si era comportato da untore. Però, senza tenere presente che in quel periodo appunto di Covid, per poter viaggiare, si doveva sottostare comunque a dei controlli, quindi ai tamponi e quant'altro. Per quanto riguarda l'audio che ci ha fatto ascoltare Fate, si parla appunto di questo Pietro ma si parla anche di Pericolo Onda e l'audio e io lo ripeto parola per parola è il seguente è pure Pietro un po' di persone di merda anche quella Barbara Lee che gli parla adesso devo andare in live perché quella puttana di Onda sta facendo la vittima e mi tocca andare in live a difendere quella cretina di mia madre. Allora un punto l'abbiamo chiaro in ogni audio in cui si parla della madre non si può lo associa il nome della madre comunque ad un'offesa che sia cretina stupida eccetera quindi chiediamoci cosa penserà mai Chiara della madre non si sa comunque questo era tutto oggi pomeriggio ci sarà anche la tra poco ci sarà live di fate quindi vedremo se ci sono novità io a questo punto vi saluto vi abbraccio tutti e se volete lasciatemi un like se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi dei commenti ciao a tutti un bacio un bacio un bacio un bacio un bacio un bacio un bacio